Siamo alla pausa per le festività natalizie e praticamente si conclude l'esperienza della commissione di inchiesta sul sistema bancario, commissione che per quanto fatta secondo me per fini elettorali ha avuto il merito di scoprire diversi fatti che non sono certamente lodabili, anzi vanno corretti. Ma al di là di quello che avete seguito sulla cronaca giorno per giorno, io volevo darvi una sottolineatura che invece non è stata fatta almeno nei mass media che io abbia letto e cioè il fatto che tutti i grandi protagonisti, tutti i grandi stakeholder che abbiamo chiamato a udire, formali, informali, accademici, ministro del tesoro, governatore di Banca d'Italia, tutti i protagonisti, una cosa in comune l'hanno detta, che questa crisi è stata inevitabile e causata oltre che da specifici comportamenti scorretti di alcuni dirigenti bancari, è stata causata soprattutto dalla grande crisi finanziaria globale 2007-2008 e poi seguita nel 2011-2012 dalla crisi sul debito sovrano italiano. Ecco, loro hanno usato tutti l'aggettivo inevitabile, crisi inevitabile. Vorrei dire che questo non è assolutamente vero, lo dicono perché sono abituati a pensare solo con questo sistema bancario così strutturato e qualcuno l'ha anche scritto nero su bianco, le banche così strutturate sono praticamente procicliche, cioè amplificano quello che è l'iniziarsi di una crisi. Allora la prima considerazione è ma che cosa serve a un sistema economico, un sistema bancario prociclico, cioè nel momento in cui l'economia inizia a manifestare segni di debolezza, anziché aiutarla a riprendersi, amplifica appunto questa crisi stessa. E secondo che non è assolutamente così perché lo dimostrano l'esperienza delle 30 banche etiche che esistono in Europa e che sono state recentemente oggetto di un confronto con le 30 banche più grandi europee, un rapporto che è uscito l'anno scorso a fine 2016 e che dimostra chiaramente come le banche etiche non solo siano estremamente più solide ma sono anticicliche e molto molto più profittevoli, cioè si può coniugare una robustezza, una solidità, un carattere di anticiclicità persino con la redditività appunto dell'impresa bancaria stessa, cosa che dovrebbe essere ovvia, cioè una banca dovrebbe concedere i prestiti ed agire in maniera assennata, prudente, meditata e in questa maniera garantire anche appunto i suoi profitti. Ecco questa è una cosa che non esce sui mass media, io nel mio spazio ve la voglio sottolineare, non è vero che sia inevitabile che una crisi finanziaria globale per forza di cose debba deprimere un sistema bancario, se il sistema bancario fosse solido come lo è appunto quello del circuito delle banche etiche, la crisi naturalmente non aiuta, naturalmente è un ostacolo, però il sistema bancario, quello etico è stato ampiamente in grado di sopportarlo, anzi di aumentare il volume dei propri prestiti e quindi di aiutare l'economia reale. Quindi rendiamoci conto, un'alternativa, un sistema diverso c'è, esiste c'è, esiste c'è, cerchiamo di prenderlo in considerazione.